Buongiorno, sono Ambra Lofaro della redazione del Liceo Scientifico Respighi di Piacenza e stiamo aspettando Stefano Rodotà che ci concentrerà fra pochissimo una preziosissima intervista con le domande di noi giovani. So che lei è socio dell'Associazione Libera Uscita per la Depenalizzazione dell'Eutanasia. Come mai si schierà a favore dell'eutanasia e secondo lei perché oggi ancora non si viene a capo di questo importante problema? Che non sia il tema centrale in questo momento è anche vero perché ciò su cui noi stiamo discutendo è la possibilità di ciascuno di prendere delle decisioni sul fine vita rifiutando le cure mosglie non grelle. Quindi non tanto l'eutanasia, non tanto il suicidio assistito quanto piuttosto l'espansione giusta del governo del nostro corpo e della nostra vita in tutte le società. Se poi si arriverà anche a questa discussione estrema come è avvenuto in altri paesi e come continua a avvenire in altri paesi credo che questo sarà un passaggio importante. Ma oggi il tema non è quello e il discorso pubblico privato in questa materia ha una sua forte incidenza perché un potere pubblico vuole sostituirsi alla volontà del privato anche quando il privato non chiede interventi degli altri e meno che mai, quella è comunque una frontiera sulla quale io mai mi spingerei qualcuno che decide del morire di un altro. Questo è assolutamente inedissimo. Epicuro diceva vivi nascosto, quindi in un certo senso stai lontano dalla vita politica. Lei ha fatto una vera e propria scalata al successo nella politica italiana. Come mai decide a un certo punto di ritirarsi per dedicarsi nuovamente all'insegnamento? Ma io non credo di essermi ritirato. Io sono convinto di una cosa, nella vita ci sono varie stagioni, io non ho mai inteso la politica come carriera, ci ho messo dentro molta passione, non ho l'impianto, ah ma tu hai perduto tempo in Parlamento, no, non so se ho fatto delle cose buone o cattive certamente, ho imparato molte cose, sono riuscito ad avere un contatto reale con le persone. E nel momento in cui io ho visto che la politica richiedeva non solo attività, ma richiedeva riflessione e pensiero, perché cominciava una regressione culturale, io sono convinto che la cattiva politica è sempre più di cattiva cultura, ho detto che in questo momento, senza presunzione, il mio compito sta più in quel versante, che è la riflessione, poi ci ho messo dentro una lunga parentesi, anche inventando l'autorità sulla privacy, che credo sia stato anche un contributo culturale, quindi non ho avuto, come dire, non solo un pentito della politica. Mario Calabresi nella sua conferenza ha detto che l'uomo politico non ha diritto a una vera e propria privacy, quindi non deve avere segreti per il popolo. Lei che è stato presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, cosa ne pensa a proposito? Ma guardi, non solo penso che Calabresi abbia detto una cosa assolutamente corretta, ma quando io ho dovuto scrivere, garante, ho dovuto scrivere insieme all'ordine del giornalista, un codice di deontologia, quando siamo arrivati alle cosiddette figure pubbliche, che sono i politici in primo luogo, abbiamo detto che sulla scorta e sulla scia di quello che è una diffusa diffusa e consolidata tradizione degli Stati Uniti, che il politico ha una minore aspettativa di braga. E che per due ragioni, perché i cittadini devono avere la possibilità di controllare, perché la fiducia che si dà a un politico richiede una piena conoscenza. Secondo, poiché il politico usa il proprio privato per avere consenso, per esempio appare in pubblico con la sua famiglia, è chiaro che poi a un certo punto non può dire, io alcune informazioni ve le do perché sono quelle positive e altre che sarebbero negative invece ve le le. Nella nostra società l'ambiente politico sembra tutta corruzione agli occhi di noi giovani. È ancora possibile oggi, secondo lei, essere uomo politico e mantenere nello stesso tempo la propria dignità personale? E è forse per questo motivo che lei ha scelto di allontanarsi dalla vita politica? No, io questo devo dire sinceramente non è questa la motivazione. La motivazione vera è quella che ho detto. Nello stesso tempo che oggi ci sia un uso della politica, che l'ha allontanata moltissimo dall'idea di bene comune, di lavoro nell'interesse della collettività, che la politica è fatta di piccole oligarchie. Questo è del tutto vero. Ma allora io penso che ci sarebbe un grande spazio per chi in politica entra, non accetta compromessi, parla chiaro, sceglie il contatto diretto con le persone, ci sia un grande spazio, soprattutto perché da vecchio professore, trovando i miei studenti, i giovani che incontrano continuamente attenti a queste cose, è l'unico antidoto al disincanto della politica. Allora, dia un consiglio per cortesia a tutti i giovani che vogliono fare della loro vita un oggetto memorabile come lei ha fatto della sua vita. No, io devo dire, in primo luogo studiate, questo sì. Secondo luogo essere molto sinceri in tutti i loro movimenti della loro vita. E tanti auguri. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.